Buon lunedì, buongiorno Adriana. Buongiorno. E naturalmente benvenuti a Tavola. Sapete dove siamo? Siamo in Val Sugana, anzi al ristorante Val Sugana in via stazione 1 a Primolano. Benvenuti a Tavola, trasloca in provincia di Vicenza. E questo ci fa davvero piacere, quindi grazie Adriana per essere sponsor e location di questa settimana. Intraprenderemo come di consueto un viaggio attraverso la cucina del ristorante che ci ospita e naturalmente inizieremo con oggi a parlarvi un po' del ristorante, perché io so Adriana che questo ristorante albergo arriva da una lunga tradizione familiare. Allora questo albergo risale al 1870 circa, vedete la foto che c'è al bar, era di miei nonni, poi è passata ai miei genitori e alla fine a me. Tra l'altro è stato bombardato. Bombardato e poi è ricostruito. Oggi che cosa propone la cucina di questo ristorante? Oggi vi volevo proporre le trofie a modo mio, che è una ricetta che mi sono inventata come quasi tutte le ricette che faccio io. In generale invece Adriana, quali sono i piatti che presentate a chi viene qui? Beh in genere piatti tradizionali del Veneto, dal baccalà alla Vicentina, piatti di pesce tipo le trote, gli avanotti, nel periodo dei funghi, polenta e funghi, soppressa, salsicce nostrane, tutte le cose che provengono dai nostri posti, dai nostri boschi e dalla nostra natura. Tra l'altro so che siete aperti tutti i giorni, sabato escluso? Sì, dal lunedì al venerdì abbiamo selezionato una clientela diciamo di clienti operai, rappresentanti che lavorano, invece la domenica più diciamo persone, come si può dire, famiglie o che vanno in giro a spasso. Tra l'altro Adriana mi diceva fuori onda che il menù dedicato agli operai o appunto alle persone che passano di qui e si fermano a mezzogiorno per motivi di lavoro è un menù particolare perché è vero che è a prezzo fisso, però presenta una selezione per esempio di 5 piatti, primi piatti, 5 secondi piatti, una marea di contorni, tanti dolci, per cui è un menù davvero ampio, ricco, in più cambia di giorno in giorno e di settimana in settimana, diventando così una caratteristica di questo ristorante. Sì, perché noi non usiamo catering, facciamo i piatti tutti i giorni diversi perché ogni giorno crea un menù diverso, non troverete mai a lunedì quello che avete mangiato a lunedì prima insomma. Perfetto, questo è veramente un punto a tuo vantaggio. Grazie. Allora andiamo subito in cucina a preparare queste trofie. Allora, per fare le trofie a modo mio, dobbiamo mettere in un tegame un po' di cipolla tagliata sottile, ci si mette dell'olio di oliva e si fa soffriggere lentamente. Aggiungiamo della pancetta affumicata tagliata a listarelle e si rimette sul fuoco per qualche minuto. Aggiungiamo delle zucchine tagliate a julienne e si lasciano andare molto molto poco perché devono rimanere croccanti. Aggiungiamo un pizzico di sale, un pizzico di peperoncino e della crema di pecorino. Oppure se non avete la crema di pecorino potete benissimo usare un'altra crema di formaggi e poi metterci il pecorino grattugiato. Un po' d'acqua di cottura della pasta. Adesso buttiamo le trofie nell'acqua per cuocerle logicamente. Devono rimanere un po' al dente. Aggiungiamo le trofie al sugo di cottura. Spadelliamo e devono rimanere belle morbide, non un sugo troppo asciutto. Impiattiamo. Il piatto è pronto. Dalla cucina entra Andrè, il nostro chef, e al fianco di Adriana c'è Gigi, il marito. Queste sono le tre persone che cucineranno questa settimana per voi, ma che solitamente, abitualmente, cucinano al ristorante Albergo Valsugana. Adriana, ricordiamo il numero telefonico per le prenotazioni. 0424 43 38 60. www.albergovasugana.it, il sito internet. A questo punto puoi dirlo. Benvenuti a tavola. L'abbiamo quasi fregata. Ci rivediamo domani puntuali, alla stessa ora. Grazie. Maria. 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 Grazie a tutti.